Musica Salve amici, quest'oggi andremo a preparare i famosi biscotti americani, i cookies al cioccolato. Vediamo adesso come procedere. Per realizzare i nostri biscotti ci occorrono 75 g di zucchero di canna, 75 g di zucchero semolato, 90 g di burro, un uovo, 200 g di farina, 100 g di cioccolato che noi abbiamo già tagliato a pezzetti. In alternativa potete anche utilizzare le gocce di cioccolato che si trovano già pronte nei supermercati ed un cucchiaino di sale. Cominciamo facendo fondere il burro a temperatura bassissima per evitare che bruci. Oppure se avete il microonde potete farlo sciogliere al microonde. Quando il burro si sarà sciolto aggiungeremo lo zucchero, sia quello di canna che lo zucchero semolato. E lo lavoreremo con una forchetta oppure in alternativa se preferite anche con le fruste elettriche. Passiamo quindi ad aggiungere l'uovo. E proseguiamo a lavorare. L'utilizzo dello zucchero di canna ci consentirà di avere quel particolare colore che donerà ai nostri biscotti un sapore e un aspetto davvero particolare. Possiamo a questo punto aggiungere gli ingredienti secchi, ovvero il sale e la farina. Poniamo adesso il tutto su un tagliere e lavoriamo. Aggiungiamo anche le nostre gocce di cioccolato. Fate preriscaldare il forno a 180 gradi e intanto preparate una placca da forno con della carta forno e realizziamo le forme dei nostri biscotti delle semplici palline che andremo però a distanziare bene perché in cottura tenderanno ad allargarsi. non devono essere molto grandi all'incirca questa dimensione schiacciata leggermente e andremo a disporle sulla nostra carta forno con queste dosi dovreste ottenere all'incirca 25 biscotti inforniamo ora i nostri biscotti ed ecco i nostri biscotti appena sfornati ora dovremo attendere che si raffreddino prima di toglierli dalla grata ci sono occorsi per cuocerli 25 minuti se questa ricetta vi è piaciuta vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale a lasciare un like o un commento ciao a tutti